Imprenditori balneari in piazza contro la riforma delle concessioni. Gli imprenditori balneari calabresi sono scesi in piazza a Roma contro la legge che intende riassegnare le concessioni balneari. La protesta organizzata dalle organizzazioni dei balneari aderenti alle sigle FIBA, Confesercenti e Sib, Confcommerci, ha registrato la presenza di numerosi gestori calabresi e in particolare la Metini, per dire no alla legge che intende riassegnare le concessioni balneari tramite gare pubbliche, senza nemmeno il riconoscimento del valore aziendale delle imprese. Quello che vogliono evitare gli imprenditori è un vero e proprio sproprio delle piccole e medie aziende, per lo più a conduzione familiare. Una decisione è quella che deve prendere il Senato, che a loro dire rischia di azzerare un sistema economico come quello dei balneari con l'economia diretta e indotta. Da qui l'appello alla responsabilità e alla ragionevolezza in quanto si è ingenerata una spaccatura con le altre sigle e le altre organizzazioni dei balneari, soprattutto Asso Balneari, Confindustria, CNA Balneari e Base Balneare, che hanno proclamato il rifiuto totale di qualsiasi forma di gara pubblica per riassegnare le concessioni di spiaggia, respingendo in toto la proposta di riforma del Governo in discussione del Senato. Intanto il Consiglio di Stato conferma quanto già in precedenza ha già deliberato, ritenendo valide e intoccabili fino al 31 dicembre 2023 le attuali concessioni balneari, respingendo il ricorso di un'associazione che voleva ottenere una spiaggia rivendicando che il titolo fosse scaduto nel 2020. Nelle immagini anche i titolari dei Lì di Montauro, che avremo modo di sentirli nei prossimi giorni.